Visionottica Saracino Occhiali da vista e da sole Centro applicazione lenti a contatto di tutti i tipi Centro specializzato per lenti progressive Con le nostre promozioni, torni a fare ciò che ami E' ora di vederci in sicurezza Sconti dal 20 al 50% su occhiali da vista e da sole Saldi! Occhiali da sole da 49 euro Vieni a scoprire i nuovi arrivi Ed ora anche i telescopi Visionottica Saracino Vicino ai tuoi occhi Dal 1967 Qualità, professionalità e convenienza al servizio del cliente Ti aspettiamo in Viale Liguria 44 Taranto Un Felice Natale ed un 2021 pieno di gioia